Bella a tutti ragazzi, ciao cariii Benvenuti in Kiwi Benvenuti e bentornati Ci siamo lasciati un po' per alcuni video che avete visto, che spero avete visto Nelle fiere Romics e Comics e Comic Con E quindi spero vi siano piaciuti Quindi bentornati nella mia grotta Che bello, che bello Come avete letto dal titolo ragazzi, mi raccomando Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mette il like, commentate Sempre, mi raccomando ragazzi E come avete letto dal titolo Oggi vi dirò alcune novità che ci saranno qui, diciamo, nel canale Allora, partiamo dal fatto che la mia intenzione è che dai prossimi video, spero Di portare di tanto in tanto qualche ospite, diciamo, qualche ospite cosplayer, qualcuno così da fare Tipo un video, non so quale, ma lo faremo Un video, diciamo, inospitata, diciamo, ospiterò insieme a me Di tanto in tanto un cosplayer, così, diciamo Seconda novità ragazzi, ancora non so cosa farci, ma credo che un'idea ce l'ho Ho aperto un canale e un gruppo telegram Ragazzi, vi lascio il link qua sotto in descrizione Per unirvi al canale e al gruppo Vi lascio il link qua sotto in descrizione E dove, principalmente, cosa farò su questo canale telegram Se fanno due chiacchiere, diciamo, chiacchieriamo, diciamo le cose E soprattutto, ragazzi, chiederò, farò dei mini sondaggi su quale video preferireste vedere Sul canale, diciamo Cioè, ho un'idea per fare alcuni video Diciamo, vi dico, ragazzi, vi piace sta cosa Oppure, magari, se potreste essere voi stessi A darmi delle idee Magari dite, oh, io voglio un video Che mi piacerebbe vedere un video su sta cosa qua O voglio sapere più di sta cosa E io ve lo faccio, ragazzi Voi lo dite e chi ve lo fa Quindi, è un canale di, diciamo, dare e avere, diciamo Tu mi dai una tua idea, io ti faccio il video Quindi, ragazzi, iniziamo E terza, terza novità, ragazzi Terza novità di questo canale Di scemo, di questo canale, sì Perché di tanto in tanto ve li farò vedere Ragazzi, ho iniziato a fare video su commissione come videomaker Oh, quindi tra poco vedrete i miei primi lavori da videomaker Ai cosplayer che ho fatto al Romics Ok, ragazzi, poi qua sotto nei commenti Ditemi cosa ne pensate Certo, perché ovviamente Voglio le vostre, i vostri pareri, vorrei Quindi, ho iniziato a fare i primi set, diciamo I set da videomaker, diciamo Alcuni video, alcuni da, ai cosplayer Quindi, se anche tu sei un cosplayer E vorresti un video fatto ad hoc, diciamo Un video così Video real plus Lo chiamo così, real plus Perché non è che sono i soliti video Così dove stai, stai fermo Te giri, te giro così, capito? Sono video un po' Poi vedrete tra poco E se anche tu cosplayer vuoi un video Basta che, basta che Basta che mi scrivi Basta che mi contatti Io te rispondo Tranquillamente Quindi Ho iniziato anche, come ho detto Ho iniziato come videomaker A fare dei video privati Però, anche, posso fare anche Video, diciamo, pubblicitari Così, basta che mi scrivete ragazzi Che qua Serve il money, serve E quindi ragazzi Queste sono le tre novità Quindi, sul canale porterò ospiti Sperando che vorrebbero venire Certo E porterò ospiti sul canale Ho aperto, come ho detto Un canale Telegram E un gruppo Telegram Dove poter interscambiare Sì, interscambiare opinioni Quindi magari avere idee Punti di vista, capito? Spunti nuovi, capito? Sui video Quindi voi ne farete Principalmente parte Sarete voi i protagonisti Di questi canali Telegram, diciamo E terzo Ragazzi Io ho aperto le commissioni Da videomaker E quindi se qualcuno è interessato Ad avere dei video privati Come cosplayer Oppure anche come azienda Come pubblicità Come qualsiasi cosa Ovviamente Ovviamente E sta su Roma Perché Non è che vado fino Fino così Pino a Milano Ovviamente Su Roma Perché io vivo a Roma Se può fare sta cosa Se no Se no Mi pagate pure il treno Vabbè ragazzi Quindi Vi lascio vedere I miei due lavori Da commissione Come videomaker E mi raccomando E mi raccomando ragazzi Seguitemi anche su Telegram Che vi lascio Qua sotto Il link Di invito In descrizione Che vi lascio Che vi lascio Che vi lascio Che vi lascio Ragazzi avete visto Questi Questi video Da commissione Che ho fatto Così Al Romics Non c'erano Tante commissioni Due Perché ho iniziato Adesso E Cosa ve ne pare E Raga Ovviamente Si migliora Sempre Quindi Cioè Non è che così Sono arrivato Si migliora Sempre Quindi ragazzi Scrivetemi Se volete Anche voi Un video Sul vostro Cosplayer O sulla vostra Azienda Mi raccomando ragazzi Ci vediamo Al prossimo video E mi raccomando Iscrivetevi al canale Ciao 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 Grazie.